Allora, dunque, San Luca, San Luca, Parco Talon, Parco Talon, lungo Reno, il Piopeto dove Fabio ha fatto le foto, ma prima c'era una chiesa sconsecrata che non sappiamo cos'è, l'Aghi della Sapava, la chiesa sconsecrata, salita in asfalto, poi a destra, poi per i prati di Mugnano, ai prati di Mugnano abbiamo mangiato e l'hai fatto il barito, poi siamo saliti ancora, siamo arrivati alla zona dove c'era la vigna centenaria, poi la vigna centenaria siamo arrivati al ricovero degli animali, quello di Brento, poi abbiamo il rifornimento dell'acqua, Monte Adone, temporale, giù, come si chiama, la trattoria di Brento, trattoria di Brento, Moretti, siamo scesi giù e siamo arrivati a, abbiamo fatto asfalto, abbiamo tenuto la destra, poi la sinistra, siamo arrivati a, come si chiama, Arco Lebraine, abbiamo dormito i tre somari, bene, un cazzo lungo così, siamo alzati, il giorno dopo abbiamo fatto, allora, sterrato a salire, che è oggi poi, sterrato a salire, Monzuno, poi dopo siamo arrivati a Monzuno, un po' fuori, un po' dentro asfalto, si, Monzuno, ha perso l'ombrello, anche io, lui l'ha rotto, Monzuno, Monzuno, campi sportivi, poi dopo siamo arrivati a Dindone, Dindone, Monte Venere, Monte Venere, Le Croci, Monte Venere, Le Croci, Le Croci, Madonna dei Fornelli, Tagliatella, Gran Cache, Tagliatella, con i funghi, poi, Sosta, poi, da Madonna dei Fornelli, Salitone, con i gradini quelli di legno, fino a, Valserena, Pian di Balestra, Pian di Balestra, Asfalto, Valserena, Valserena, Lo Chalet, Lo Chalet, Lo Chalet, La Casa de Lo Chalet, Sosta, bene, poi ci siamo fatti trovare, tre bicchieri, lavate una Valserina, questo è il testimone, e poi, secondo me, lei, no, perché, non puoi solo vedere, guarda, 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 donne nude, non c'è più questo, bello però, però, ha reso, ha reso il filmino, lo possiamo mettere su YouTube, certo?